il un bel saluto alla conferenza del Red Bull Indianapolis Grand Prix Valentino Rossi ti rilassiste con Jorge il prossimo anno che sarebbe interessante, mi immagino sì, sarebbe interessante Ora la situazione cambia molto in compara con il 2008 quando Jorge arrivò a Yamaha. Hai chiesto di mantenere una walla in M.U.? No, 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 no. Siamo molto vicini con Jorge. No, se si accade, per me no problemi. No problemi, no problemi. No walla è ok per me e per Valet questa volta. Ora siamo il numero uno nel team e le nostre relazioni sono buone. Ho rispetto per lui e per me. Credo che possiamo rimanere insieme. No vantanove, no vantanove vittorie! No vantanove vittorie! No vantanove! Sono legali ma un po' sul limite. La prossima settimana per me sarà difficile. Especialmente cercare di rimanere con Jorge e anche di venire a Jorge. Perché ora è molto, molto veloce. Sì, magari uno dei miei problemi sarà un gioco per Valentino, ma non è la principale. La prossima. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.